vuole la profondità non ho visto che vuole è buono e si gioca ma da due modi o sennò da lì può crossare traversone di lasagna vissi ma vissi qui ma vissi qui ma vissi qui ma vissi passaggio intercettato autogol ricordibile chi è questo qua? può succedere piangi questo è bellissimo però best autogol guardatelo eh giro che pagliacciata che lavoro